Oggi nell'aula del Senato il via libera la manovra quarta versione. Il governo omette la fiducia ed è polemica con le opposizioni. Fra le novità del decreto l'aumento dell'IVA al 21%, il prelievo del 3% per i redditi sopra i 300.000 euro e l'innalzamento dell'età pensionabile per le donne. Saranno abolite le province. La manovra rivista e corretta va nella direzione giusta per il pareggio di bilancio. Fa sapere la Commissione europea, soddisfatta Confindustria, c'è dunque attesa per la riapertura dei mercati. È una manovra iniqua, ripete invece il leader della CGL Susanna Camusso, al termine della manifestazione di ieri a Roma. Anche la CISL è fortemente critica dopo le ultime modifiche. Sul presunto ricatto a Berlusconi, domani nuovo interrogatorio in carcere per Giampaolo Tarantini e la vitola dalla latitanza racconta il premier mi disse di aiutare l'imprenditore barese. Avviata dal CSM un'indagine sul procuratore di Bari laudati per l'inchiesta sulle escort a Palazzo Grazioni. La nazionale di Prandelli non brilla, ma grazie ad un gol di Pazzini a sei minuti dalla fine batte la Slovenia e conquista la matematica qualificazione agli europei del 2012 e venerdì riparte il campionato. Allora, sono le 7.32, buongiorno, buona giornata dalla redazione del telegiornale. Parliamo ovviamente di questa manovra, quarta versione della manovra, perché ieri, per l'appunto, dopo un vertice e un consiglio dei ministri a sorpresa è stata licenziata questa nuova versione. Nuova versione che in qualche modo viene promossa dalla Commissione europea che ieri sera, infatti a tarda sera, intorno all'11.30, ha fatto per venire subito una nota per dire che apprezza appunto la manovra e in particolare testualmente dice che è un segnale importante la decisione sull'età pensionabile delle donne, ma anche che vengono considerati miglioramenti decisivi, l'abolizione delle province, l'introduzione in costituzione dell'obbligo del pareggio di bilancio. Tutte queste cose ovviamente sono state dette ieri sera perché si spera evidentemente di contenere in qualche modo i mercati, di rassicurare i mercati questa mattina quando fra poco riapriranno le borse. Poi lo sapete domani c'è un'importante riunione a Francoforte della BCE che deve decidere se continuare o meno a comprare i nostri titoli di Stato. Anche il Quirinale fa sapere di essere moderatamente soddisfatto. Di fatto era stato lo stesso presidente napolitano che appunto due giorni fa aveva detto che bisogna rimettere ancora mano alla manovra. Certo la questione della fiducia irrita invece un po'. Allora sentiamo che cosa c'è nella manovra, ce lo racconta Francesca Roversi. Per la manovra dopo i rigurgiti di Ferragosto è il giorno della verità. In Senato è previsto il voto finale con tanto di fiducia al Maxi emendamento presentato in corsa da Palazzo Chigi dopo l'appello del Quirinale. Giorgio Napolitano aveva sottolineato la diffidenza dei mercati internazionali ed aveva chiesto misure più credibili ed efficaci. Così l'esecutivo stretto tra le tempeste valutarie e le divisioni interne annuncia gli ennesimi cambiamenti dopo un vertice di maggioranza a Palazzo Grazioli. Ci sarà l'aumento dell'IVA dal 20 al 21%. Resta poi in piedi l'ipotesi di innalzare anche le altre aliquote IVA e ritorna il contributo di solidarietà. Un 3% sui redditi oltre 300.000 euro. Redditi complessivi di tutti, inclusi i redditi fondiari ad esclusione della prima casa. Secondo il Governo il contributo riguarderà 34.000 contribuenti. La tassa sarà deducibile, affidata poi ad un disegno di legge da far passare subito in Consiglio dei Ministri giovedì l'abolizione delle province più volte emersa nel corso dell'estate e più volte rimandata a tempi futuri per volontà della Lega ma anche dello stesso PD. Le loro competenze andranno alle regioni e sempre nel disegno di legge costituzionale ha inserito l'obbligo del pareggio di bilancio. Passa infine anche la norma sull'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini anche nel settore privato. Adeguamento che scatterà dal 2014, segno che anche qui la Lega si deve essere ammorbidita, anche perché domani l'esecutivo della BCE dovrà decidere se continuare a comprare titoli di Stato oppure no. E il verdetto della Banca Centrale dei Mercati, come ha sottolineato Napolitano, non è da sottovalutare. Ovviamente questa manovra e soprattutto il fatto che venga messa la fiducia ha irritato moltissimo le opposizioni che quindi hanno avuto anche giudizi ancora più severi proprio sulla manovra, manovra che invece per ora sembra aver raccolto un giudizio positivo di Confindustria. Pessimo quello dei sindacati. La CGL è scesa in piazza ieri mattina con tantissime persone che hanno deciso di non andare a lavorare. Anche la CISL però in serata ha detto che questa manovra, evidentemente soprattutto per la questione delle pensioni, non raccoglie il plauso. Paolo Celata. Contro la manovra ieri le manifestazioni in tutta Italia della CGL. A Roma il corteo si è chiuso con il comizio del segretario Susanna Camusso. Non ci rassegneremo la presa di posizione della Camusso, durissima contro una manovra bocciata su tutta la linea. Colpisce lavoratori, giovani e pensionati anziché far pagare chi ha i soldi o non ha mai pagato le sue parole. Il paese è sull'orlo dell'abisso. Abbiamo proposto una nostra contromanovra equa con gli stessi saldi di quella in discussione, dice ancora la Camusso, che difende la scelta dello sciopero generale senza CISL e Will. Se non ora quando protestare, la frecciata rivolta a Bonanni e D'Angeletti. La Camusso, che ancora più dura con il ministro Sacconi, contrario a ritirare l'articolo 8 della finanziaria, quello che consente di derogare con accordi aziendali anche al divieto di licenziamento. Se non lo ritira, dimostra di essere il peggior ministro della Repubblica. Le parole velenose della Camusso. A Roma in piazza, sfilano con lei i leader Bersani, Di Pietro e Vendola. Non ci sono invece i centristi del terzo polo e alcuni obiettori del PD, come Veltroni, Fioroni e Renzi. Proprio il sindaco di Firenze è stato protagonista di uno scambio polemico con Rosi Bindi e Enrico Rossi, governatore toscano, per la sua decisione di disertare la piazza. Renzi, bersaglio dell'ironia del corteo CGL di Firenze, si è difeso controattaccando. Il compito di chi fa politica non è quello di andare in piazza a protestare la sua repubblica. Allora, vedremo che cosa succederà. Abbiamo detto che entro questa sera dovrebbe essere votata la fiducia al Senato, poi ovviamente la manovra va alla Camera. Intanto noi ci occupiamo invece delle questioni legate alla cronaca, che in qualche modo comunque rendono nervoso ovviamente il panorama politico. Ci riferiamo in particolare alla vicenda Tarantini. Ieri la vitola, lo sapete, la titante, si è fatto sentire da Panama. Ha detto la sua, ha detto che presto ritornerà e su questo evidentemente si possono avere dei dubbi, visto che quando ritornerà sarà arrestato, ma comunque ha annunciato un corposo memoriale. Quello che è importante è che Tarantini però verrà interrogato di nuovo e quello che lui potrebbe dire fa paura, non solo perché lui è interrogato dalla Procura di Napoli in merito alla presunta estorsione nei confronti del Premier, ma anche perché a Bari si sta per chiudere l'altra inchiesta, quella che lo vedeva protagonista in quanto uomo che portava le escort a Palazzo Grazioni. E ancora una volta si teme moltissimo l'uscita delle intercettazioni, ne parlano tutti a Bari perché pare che siano davvero tante le signore coinvolte. Massimo Mapelli. Rivelazioni, annunci, inchieste che si intrecciano ai nuovi interrogatori. Il caso Tarantini continua ad occupare la ribalta delle cronache giudiziarie. Domani a Napoli l'imprenditore pugliese sarà nuovamente sottoposto alle domande dei pubblici ministeri che indagano sulla presunta estorsione ordita nei confronti di Silvio Berlusconi. Dallo stesso Tarantini, rinchiuso nel carcere di Poggio Reale, dalla moglie Angela De Venuto agli arresti domiciliari e da Walter Lavito, la faccendiere ed ex direttore dell'Avanti, tuttora irreperibile all'estero. I sostituti Woodcock, Curcio e Piscitelli vogliono accelerare i tempi, acquisire nuovi elementi in vista anche dell'audizione con lo stesso Berlusconi, parte lesa nel procedimento che si svolgerà nei prossimi giorni a Roma. Intanto la Vitola, con un comunicato, ha annunciato di volersi consegnare alla giustizia per raccontare la sua verità. È l'intermediario tra Berlusconi e Tarantini, l'uomo che avrebbe intascato una buona parte del denaro destinato all'imprenditore pugliese. Berlusconi sapeva quello che faceva per evitare che Tarantini dilapidasse il denaro. Non voglio passare per l'uomo nero, unico artefice della vicenda, sostiene la Vitola, che ha annunciato un memoriale e ha promesso dichiarazioni alla stampa. Le trame e i passaggi dell'inchiesta della Procura di Napoli si intrecciano con l'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura che ha convocato per il prossimo 22 settembre il procuratore capo di Bari Laudati per accertare o escludere omissioni o ritardi nell'inchiesta sulle escort a Palazzo Grazioli. Tre giorni prima è stato invece convocato il procuratore Scelsi, il pubblico ministero trasferito da Bari a Roma che con un esposto all'organo di autogoverno dei giudici ha gettato ombre sull'inchiesta in cui per la prima volta emerse la figura di Tarantini come intermediario di affari illeciti e secondo le accuse come procacciatore di escort destinate al Presidente del Consiglio. L'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura di Bari è atteso dopo il prossimo 15 settembre. Fino ad allora bisognerà attendere, salvo indiscrezioni. E ancora di escort si parla di intercettazioni se ne occuperà oggi, a partire da oggi la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera che si occuperà anche della richiesta di arresto di Marco Milanese ma è stata appunto coinvolta, interessata nel caso delle intercettazioni che riguardano invece in questo caso il Presidente del Consiglio alla vicenda dell'escort dell'Olgettina dunque stiamo parlando di quello che è successo a Milano ebbene la richiesta è quella appunto di non utilizzare queste intercettazioni. Camilla Morelli. La riunione è stata calendarizzata per discutere della richiesta di arresto avanzata dai magistrati napoletani per il deputato PDL Marco Milanese ma all'ordine del giorno della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ci sarà tra meno di due ore anche la lettera che Silvio Berlusconi ha voluto inviare ieri sera tramite il suo legale Niccolò Ghedini tre pagine con numerosi allegati nei quali il Premier chiede alla giunta di non utilizzare le intercettazioni telefoniche che lo riguardano nel processo Rubi che riprenderà il 3 ottobre a Milano. Si tratta di numerose conversazioni fra il Premier e le ragazze dell'Olgettina Nicol Minetti e altre giovani protagoniste delle feste di Arcore. Intercettazioni illegali secondo il Cavaliere perché fatte fin dentro la residenza di Arcore. I legali del Premier avevano già richiesto senza successo al Tribunale di Milano di togliere le intercettazioni dal processo ora ci riprovano per via parlamentare. Le intercettazioni sulle ragazze sostengono i legali erano dirette ma lo scopo era quello di controllare il padrone di casa dunque avrebbero necessitato di una autorizzazione è stato violato l'articolo 68 quello che tutela i parlamentari. Immediate le reazioni nell'opposizione che giudica la lettera irricevibile viste anche le competenze della Giunta estremamente limitate un conto si sottolinea è individuare se ci sia stato Fumus persecuzioni se ne confronti di un parlamentare un altro è intervenire in un processo sostituendosi di fatto alla magistratura. Intanto emergono altri dettagli su un'altra vicenda che riguarda Berlusconi lei le mora dal carcere in cui è rinchiuso ha detto ai magistrati che lo hanno interrogato di avere ricevuto 3 milioni di euro dal Premier ma che quasi la metà sarebbe poi finita nelle mani di Emilio Fede come compenso per aver fatto da mediatore con Berlusconi. E l'altra vicenda che ovviamente marazza la politica è quella che riguarda Filippo Penati perché non c'è solo la questione del cosiddetto sistema sesto si è sempre parlato anche di strani affari intorno all'acquisizione dell'autostrada a Serravalle ebbene l'indagine su quella vicenda che sembrava destinata all'archiviazione invece riprende vita riprende corpo si indaga per abuso d'ufficio proprio sull'acquisto dell'autostrada a Serravalle quando Penati all'epoca era presidente della provincia di Milano Daniele Magli La Milano-Serravalle è l'acquisto del 15% delle quote dell'autostrada da parte della provincia di Milano nel 2005 e questo è uno degli snodi più importanti intorno al quale si stanno svolgendo le indagini dei PM di Monza Franca Macchi e Walter Mapelli che si stanno occupando dell'affaire Penati una vicenda che sembrava ormai destinata a chiudersi con l'archiviazione dell'inchiesta penale da parte della procura di Milano ma che ora si trasferisce nel capoluogo Brianzolo perché dietro quella compravendita dalla quale il gruppo Gavio ricavò una plusvalenza di circa 179 milioni di euro si nasconderebbe l'origine di una maxitangente da 2 milioni versata a Piero Di Caterina imprenditore dei trasporti e grande accusatore di Penati attraverso una finta caparra per l'acquisto di un immobile a questa indagine si affianca quella della Corte dei Conti ed a questo proposito emergono ora delle intercettazioni pubblicate in parte oggi dal Corriere della Sera dalle quali traspare tutto il nervosismo dei protagonisti della vicenda quando un anno fa scoprirono che la magistratura contabile stava indagando su di loro per un danno erariale da 76,4 milioni di euro e che la procura della Corte dei Conti il 24 giugno del 2010 li aveva messi in mora per evitare l'imminente prescrizione dell'inchiesta da quel giorno comincia un giro vorticoso di telefonate ed sms che riguardano Penati gli otto assessori che avevano firmato la delibera dell'acquisto oltre al segretario generale presidente dell'ASAM società della provincia che aveva acquistato il pacchetto Antonino Princiotta al direttore centrale Giancarlo Saporito ed al consigliere ASAM Giordano Vimercati in una Penati chiede a Princiotta se il PM è sempre lo stesso e Princiotta gli risponde che è cambiato da Spadaro ad Evangelista e che è meglio perché con quello Spadaro non potevamo nemmeno parlare in realtà Evangelista è un magistrato tutt'altro che è malleabile che ritiene l'operazione Milano-Serravalle priva di qualsiasi utilità dal momento che il controllo pubblico dell'autostrada era già assicurato dal patto di sindacato tra comune e provincia Adesso andiamo in Libia per cercare di capire che cosa sta succedendo perché ovviamente si moltiplicano le voci circa quel famoso convoglio che era stato visto ieri dalla Libia arrivare fino al Niger forse destinato addirittura al Burkina Faso si sa che c'è questo convoglio ma chi ci sia esattamente a bordo e cosa ci sia ancora non si sa come proseguono ancora le trattative per la resa definitiva di Bani Walid Luca Der Re Che il tratto d'Africa tra la Libia e il Burkina Faso passando per il Niger nelle ultime 24 ore sia molto frequentato da mezzi civili e militari libici non è in discussione le domande però restano sempre le stesse Dov'è Momarg? Da Afri c'era a bordo delle due colonne di auto e camion quasi 250 in totale transitati sui punti di confine beh non è dato saperlo con certezza in Niger si giura sull'arrivo di alti funzionari e capi militari del regime oramai in fuga voci insistenti danno per certo il passaggio nel paese africano di Mutassim Gheddafi già capo della sicurezza nazionale libica secondo genito del colonnello così come dei 3 milioni di dollari in contanti e di un grosso quantitativo di oro che sempre secondo i ribelli di Benghazi Gheddafi vorrebbe usare per finanziare unità di mercenari africani non solo per poi tentare una controffensiva finché i lealisti si muovono oltre il confine libico in realtà non rischiano nulla la Nato non darà loro la caccia la missione dell'alleanza in Libia sulla carta è funzionale esclusivamente alla difesa della popolazione civile da ieri sera intanto sono ripresi violenti combattimenti alle porte di Sirte ultimo baluardo lealista oltre che città d'origine dei Gheddafi ribelli e governativi si sono scambiati a lungo colpi d'artiglieria a circa una sessantina di chilometri dalla città costiera inutili infine i festeggiamenti a colpi di mitraglia a Bani Walid la trattativa tra i ribelli di capi religiosi delle tribù warfalla per la resa definitiva di un'altra roccaforte gheddafiana sono ancora in stallo a Bani Walid si nasconderebbero infatti ancora molti esponenti del regime l'ala più dura degli insorti vuole catturarli e processarli mentre le tribù chiedono che vengano amnistiati 7.47 buongiorno Ugo Francicanava allora parlaci di questa nazionale vincente buongiorno Flavia buongiorno a tutti è una bella giornata una nazionale vincente una nazionale vincente tra l'altro anche sul fronte dell'Under 21 ne parleremo tra un attimo ma intanto andiamo ad occuparci della nazionale maggiore dell'Italia di Cesare Prandelli che con due turni di anticipo ha conquistato la qualificazione ai prossimi europei manca ancora il bel gioco ma intanto ci sono risultati importanti vediamo Al passaporto che era già pronto da ieri sera si aggiunge anche il biglietto per Euro 2012 pur senza brillare la nazionale di Cesare Prandelli si qualifica con due gare di anticipo pazienza se il gol arriva solo a sei minuti dalla fine dopo tante occasioni sprecate la rete del nulla osta per Euro 2012 è di Giampaolo Pazzini molto amato dalle parti di Firenze e subentrato a un Cassano non proprio brillante un'Italia lenta sprecona è prevedibile tanto nel primo quanto nel secondo tempo un'Italia però che non rinuncia alle trame palla a terra e alle verticalizzazioni proprio come vuole Prandelli per il suo progetto gli interpreti migliori anche se non sempre lucidi sono stati De Rossi Cassano Giuseppe Rossi senza dimenticare l'apporto di Pirlo la concretezza di Pazzini e perché no la determinazione di Balotelli entrato negli ultimi minuti piccoli ma significativi miglioramenti a metà campo e in attacco non giudicabile una difesa poco impegnata dalla Slovenia che lascia Firenze con poche speranze di arrivare agli spareggi gli azzurri non brillano dal punto di vista del ritmo e dell'intraprendenza ma va dato atto al CT Prandelli di aver fatto un gran lavoro a campionato non ancora iniziato e i numeri parlano per lui 22 punti in 8 partite un solo gol subito e una qualificazione mai raggiunta con tanto anticipo il bel gioco verrà e magari torneremo a vedere gli stadi pieni quando gioca l'Italia Prandelli aveva detto che bisogna leggere la partita ecco a un certo punto lì davanti si vedeva che non c'era mobilità e quindi un po' più spazio e muscoli con il tuo gol è stato determinante ma sì però anche il primo tempo secondo me hanno fatto molto bene avendo un pochino più di fortuna potevamo essere già in vantaggio poi se non le sblocchi rischi invece stasera fortunatamente poi siamo riusciti a fare gol quindi meglio così dicevamo anche della nostra Under 21 che ha ricominciato il suo cammino verso i prossimi europei di categoria la squadra di Ciro Ferrara ha ottenuto una bella vittoria 3 a 0 in casa dell'Ungheria si sono giocate ovviamente anche molte altre partite per le qualificazioni europee per Euro 2012 Germania e Spagna hanno già conquistato il loro pass l'Inghilterra è a un passo da questa qualificazione dopo aver abbattuto per 1 a 0 i dirimpetai del Galles mentre invece stecca ancora la Francia vediamo doveva vincere per staccarsi definitivamente dagli avversari e vivere le ultime partite di qualificazione con più tranquillità e invece la Francia di Laurent Blanc a Bucharest di fronte alla presidente della FIFA Sepp Blatter si deve accontentare di un pareggio per 0 a 0 contro la Romania con questo punto la corsa qualificazione resta lunga anche perché la Bosnia nell'altra sfida del girone ha superato per 1 a 0 la Bielorussia issandosi così ad una sola lunghezza dei transalpini senza Nasri in panchina per 75 minuti la squadra di Blanca fa la partita prova ad aggredire gli avversari cerca con più insistenza la via del gol e soprattutto sull'asse Ribéry-Benzema che si muovono i francesi ma il campo al limite dell'impraticabilità per un manto erboso in condizioni disastrose rovina i piani dei galletti dunque un misero punticino per la Francia che da una parte scude i rumeni dalla corsa qualificazione ma rende intrigante l'ultima sfida del girone quella che vedrà di fronte i transalpini e appunto la Bosnia-Herzegovina la rete di Ibisevic a tre minuti dal termine dell'incontro contro la Bielorussia lascia ancora incerta la situazione del gruppo D quando mancano 180 minuti alla fine dei gironi di qualificazione a Polonia-Ucraina cambio al vertice del gruppo F la Grecia è costretta a cedere il passo alla Croazia gli ellenici non vanno oltre un pareggio per 1-1 in casa della Lettonia i croati invece a Zagabria soffrono ma vincono contro Israele 3-1 il risultato finale per la squadra Israele era in vantaggio con il gol di Ahmed la rete del gioiellino Modric con un tiro dalla distanza e la doppietta di Eduardo ribaltano il risultato tra un mese la sfida Grecia-Croazia deciderà quale sarà la squadra a qualificarsi direttamente agli europei dell'anno prossimo in qualche modo restiamo in Grecia per raccontarvi una storia a metà tra il doping la giustizia sportiva quella ordinaria due stelle della velocità ellenica Kostas Kenteris e Decaterine Tanu erano attesissimi alle Olimpia di 2004 erano i portabandiera un po' in qualche modo della Grecia i due saltarono un controllo antidoping adducendo successivamente di non essersi potuti presentare a causa di un incidente in moto inizialmente nessuno gli credette furono squalificati e la giustizia ordinaria li condannò a 31 mesi di carcere anche se con la pena sospesa dopo 7 anni una sentenza di un tribunale d'appello ha ribaltato completamente i risultati assolvendo i due vediamo questa storia una delle più lunghe battaglie legali dello sport sette anni di tribunali ricorsi e dubbi mai risolti alla fine però Kostas Kenteris e Caterina Tanu sono stati prosciolti ritenuti non colpevoli dalla corte d'appello di Atene l'accusa era di false dichiarazioni alle autorità in merito allo scandalo che li vide protagonisti alla vigilia delle Olimpiadi di Atene 2004 quando saltarono un controllo antidoping giustificando la loro assenza con una caduta in moto la giustizia sportiva di Losanna li aveva squalificati nel 2006 per due anni ma loro nel frattempo si erano già ritirati a causa della loro falsa testimonianza furono condannati a 31 mesi di carcere con pena sospesa nella casa del loro allenatore fu trovato un vero e proprio arsenale di prodotti dopanti Kenteris e Tanu erano i due atleti simbolo della Grecia che si apprestava a organizzare i giochi olimpici una sorta di spot per l'allora lanciatissimo paese ellenico Kenteris si presentava ad Atene 2004 come campione olimpico in carica avendo vinto a sorpresa la finale di Sydney 2000 dove riuscì inaspettatamente a battere campioni del calibro di Otto Bolton e Darren Campbell il primo uomo bianco a imporsi nella velocità circa 20 anni dopo Pietro Mennea quasi un'assurdità negli anni dominati dai velocisti di colore ieri sera l'incredibile soluzione dopo che l'accuso non è riuscita a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l'incidente fosse stato una messa in scena una storia che lascia aperti ancora comunque molti interrogativi soprattutto in merito alla certezza della pena non solo sportiva per chi fa ricorso a prodotti dopanti Flavia grazie Ugo allora noi adesso diamo la linea subito ad Alessandra Sardogna i suoi ospiti di Omnibus la puntata si pronuncia sicuramente interessante noi invece ci vediamo se volete domani mattina sempre alle 7.30 intanto passate una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti